Stai facendo buoni progressi? Sì, avremo finito in due ore. Perché ci vuole così tanto? Un paio di bambini vogliono davvero dei regali strani. Ad esempio? Questo ragazzo vuole una macchina da corsa che possa volare. Anch'io ne ho bevuto uno divertente. Voleva un cannone che potesse scoreggiare. Chi vuole cose del genere? Samuel, hai già scritto una lettera? Che tipo di lettera intendi? Bene a Babbo Natale. Oh sì, ce l'ho. E cosa desideravi? È un segreto. Dai, dimmelo già. Voglio una macchina volante. Sarebbe fantastico. Cosa vuoi farne? Posso sempre portarlo a scuola in aereo. Allora non arriverò mai più in ritardo a lezione. Oh sì, in realtà non è una cattiva idea. E cosa desideravi? Voglio una pistola per scoregge. Posso scoreggiare su chiunque con quello. Il signor Kunze in classe per esempio. Ehi, chi era quello? Oh sì, è una buona idea. Come vanno i miei elfi? Hai preparato tutto? Abbiamo quasi finito, Babbo Natale. Cosa significa quasi? Abbiamo ancora bisogno di circa 90 minuti. Allora fai un passo avanti. Dobbiamo distribuire presto i regali. Non voglio disimballare di nuovo la frusta. No Babbo Natale, non è necessario. Promesso. Ok, conto su di te. Sì tesoro, che succede? Ciao cara. Ti va tutto bene? Sì, perché stai chiamando? Ricordati di chiedere ai bambini cosa vogliono. Oh sì, hai ragione. L'ho quasi dimenticato. Ok, ci vediamo dopo allora. Papà, andiamo a scuola adesso. Sì, devo dirti una cosa prima che te ne vada. Ok, cosa c'è? Babbo Natale mi ha chiamato prima. Voleva sapere cosa volevi per Natale. Ti ha chiamato davvero? Sì, 5 minuti fa. Dove ha preso il tuo numero? Uh, bella domanda. Hai impacchettato tutto? Sì, Babbo Natale, ce l'abbiamo fatta. Bene, perché l'ultima volta ne hai dimenticato metà. È tutto nella borsa, lo prometto. Fammi vedere la lista. Ecco qua. Quale idiota vuole una pistola da scoreggia? Voglio una pistola per scoreggie. E voglio una macchina volante. Non potresti desiderare qualcosa di normal? Da dove dovrebbe prendere Babbo Natale queste cose? Perché me lo chiedi? Questo è un suo problema e non tuo. Sì, ma povero Babbo Natale. Troverà un modo, papà. Ora dobbiamo andare, ci vediamo dopo. Wow, sono un sacco di regali. I bambini quest'anno si sono comportati bene o cosa? Sì, la maggior parte lo erano. Solo pochi ottengono la verga. Ok, ora devo andare. Altrimenti finirò nel traffico dell'ora di punta. Non sono proprio dell'umore giusto. Ok Babbo Natale, ci vediamo dopo. Renditi utile e continua a impacchettare i regali rimanenti. Dove dovrei trovare questa roba? Salve, posso esserle utile in qualche modo? Sì, vendete pistole da scoreggia qui? Cosa, per favore? O macchine volanti? Penso che tu sia nel negozio sbagliato. Provalo dall'altra parte della strada. Forse hanno qualcosa del genere. Ok, grazie. Che straccio. Sì, ciao. Tesoro, i bambini vogliono ricevere regali molto strani. Vogliono pistole da scoreggia e macchine volanti. Cosa vogliono? Non ho idea di dove posso trovare qualcosa del genere. Basta comprare loro una PlayStation. Ne sono tutti contenti. Ok, consideralo fatto. Forza Rudolph, aumenta la marcia. Abbiamo ancora 26 milioni di regali da distribuire. Sei appena diventato più grasso. Non è colpa mia se ci vuole più tempo. Buon Natale, cari studenti. Anche per te, signor Kunze. Ho una sorpresa per te. Stiamo ricevendo un regalo? Esatto, riceverai un regalo. C'è un test a sorpresa sul tavolo. Questo è il peggior regalo di sempre. Salve, vorrei acquistare una PlayStation, per favore. Sono già tutte esaurite. Per favore, ho bisogno di un regalo per i miei figli. Allora chiedi a Babbo Natale. Babbo Natale non esiste. Ehi, siamo arrivati. Ciao Babbo Natale, ci sei? Babbo Natale, svegliati adesso. Siamo già arrivati? Sì, siamo a Monaco. È da qui che iniziamo. Ok, vado a fare un sonnellino veloce. No, rimettiti in sesto. Abbiamo fretta. È vero? Forse Babbo Natale esiste dopo tutto? Devo scoprirlo. Perché sembri così triste? Il signor Kunze è un Grinch. A lui non piace il Natale. Martin non riesce a fare più niente. Devo fare tutto da solo. Bene, allora ordinerò la Playstation da Amazon. Costa 500 euro. Prima ho bisogno di un aumento. Dov'è la prima casa? È proprio lassù. 500 metri sulla sinistra. Non avremmo potuto parcheggiare più avanti? Il movimento ti fa bene. Sei vecchio e arrugginito. Dopotutto, non sono più il più giovane. Quindi cosa? Lavori solo un giorno all'anno. Fai il tuo lavoro e non darmi fastidio. Anche le renne stanno diventando sempre più sfacciate. Hai già preparato i biscotti? Biscotti? Per chi? Bene per Babbo Natale. Devi preparare biscotti e latte per lui. Altrimenti non verrà. Deve venire. Ho bisogno della mia pistola per le scoregge. E voglio la mia macchina volante. Allora è meglio iniziare a cuocere. Salve capo. Posso interrompere per un minuto? Sì, Marie. Cosa c'è? Stavo per comprare i regali di Natale. Sono davvero costosi. Cosa stai cercando di dirmi? Posso avere un aumento? No, esci subito dal mio ufficio. Beh, ho finito. Mancano solo 25.999 case. Oh cavolo, sarà una lunga notte. Almeno ci sono biscotti e latte. Sono reali? Hanno dimenticato i miei biscotti. Mi riprendo i regali. Come stai, Lisa? Bene, questi saranno i biscotti più gustosi del mondo. Sì? Cosa stai inserendo? Tutto ciò che ha un buon sapore. Spero che i bambini non siano tristi. Non abbiamo davvero regali per loro quest'anno. L'unico che può aiutarci ora è Babbo Natale. Ma lui non esiste. Andiamo ora, alla prossima casa. Perché questa roba è così pesante qui? Perché il ragazzo voleva una distensione su panca. Chi desidera una distensione su panca? Non piangere così e inizia. Odio questo lavoro. Ora devo portare 200 chili. Aspetta un attimo. Cos'è quello per terra? Sto scivolando. Lisa, cos'è quello? Ho preparato i biscotti. Sono per Babbo Natale. Wow, sarà felice. Quando arriva? Vuoi provarlo? Papà, quando arriva Babbo Natale? Babbo Natale? Uh, sarà lì più tardi. Cosa significa dopo? Penso che sia occupato in questo momento. Sono chiaramente sottopagato per questo lavoro. Il ragazzo può portare la panca appesi da solo. Non ho tempo per questo. Che aspetto ha? Sta andando tutto secondo i piani? Babbo Natale è troppo lento. Se continua così, non ce la faremo. Ok, lo chiamerò. Sì ciao? Babbo Natale è qui. Babbo Natale, sono io Ali. Cosa vuoi, Ali? Ho del lavoro da fare. Devi andare più veloce. Altrimenti non finiremo in tempo. Non dirmi come fare il mio lavoro. Sto già andando più veloce che posso. E mamma, ti piacciono i biscotti? Ah, sì sono deliziosi. Cosa c'è lì dentro? Uvetta, cioccolato è il mio ingrediente segreto. Quale ingrediente segreto? Questo non posso dirtelo. Altrimenti non è più un segreto. Hai scritto anche una lettera a Babbo Natale? No, certo che no. Babbo Natale è per gli stronzi. Ma ti fa dei regali. È fantastico, vero? Non ho bisogno di Babbo Natale. Posso comprare comunque quello che voglio. Quindi ecco le persone con l'auto volante. E la pistola per scoregge. Le persone volevano cose del genere anche in passato? Nessun Babbo Natale era normal. Lo pensavo. Dopo la casa qui, per ora faremo una pausa. Babbo Natale ha bisogno di un kebab. Sì, anche Rudolf. Tesoro, sono caduta davvero male. Perché è così? Non abbiamo nemmeno regali per i bambini. Forse Babbo Natale verrà dopo tutto. Lo pensi davvero? No, ma ti senti meglio adesso? No, non proprio. Andiamo a dormire. Domani, il mondo avrà di nuovo un aspetto completamente diverso. Sara mi ha mandato un messaggio. Ehi tesoro, ti auguro un buon Natale. Ehi principessa. Ti auguro lo stesso. Ehi Samuel, stai bene? Lisa, cosa stai facendo qui? Hai mai sentito parlare di privacy? Con chi stai messaggiando? Non sono affari tuoi. Quale idiota tiene la porta chiusa a Natale? Le persone stanno diventando sempre più stupide. E devo prendermene la colpa. Vogliamo rimanere svegli? Ho bisogno delle mie otto ore di sonno di bellezza. Sì, ma poi ti mancherà Babbo Natale. Esatto, se restiamo svegli, possiamo incontrarlo. Sì, questo è il piano. Ok, ci sto. Vieni lì con te. Abbiamo fretta. La porta è chiusa. Non lo vedi? Allora sali in qualche modo. Oppure vai dalla finestra. So cosa sto facendo. Vedi, vai. L'hai sentito? No, cosa c'era? Sembrava che qualcuno avesse dato un calcio alla nostra porta. Penso che tu lo stia solo immaginando. Non ho sentito niente. Sì, forse lo sto solo immaginando. Oppure? L'hai sentito? No, cosa c'era? Sembrava che qualcuno fosse alla porta. Quindi è qui che vive la gente. Chi vuole una pistola per le scoregge per Natale? Rudolf, torno subito. Devo solo trovare velocemente l'albero di Natale. Quindi ecco l'auto volante. Ed ecco la pistola per le scoregge. Divertitevi con esso. Marie, l'hai sentito? No, cosa c'è? C'erano dei gradini. C'è qualcuno in casa nostra. Non riesce a dormire bene per una volta? Forse è un ladro. Milo l'avrebbe notato. Vado a vedere cosa c'è. Penso che tu lo stia solo immaginando, Lisa. So cosa ho sentito. Dove vuoi andare? Voglio sapere cosa sta succedendo lì. Aspetta, vengo con te. Che cos'è quello? Sono biscotti e latte? Finalmente qualcuno con buone maniere. Il latte ha un ottimo sapore. Ora è il turno dei biscotti. Non me lo sto immaginando. C'è qualcuno. Lo so. Spero sia Babbo Natale. È allora che finalmente ricevo la mia pistola per le scoregge. Anch'io voglio vedere Babbo Natale. I biscotti hanno un retrogusto divertente. Cosa c'è lì dentro? Ha il sapore del cibo per cani. Ci sono delle impronte qui. Qualcuno era sicuramente qui. E ci sono due regali. Che tipo di ladro porta regali? Questi sono i biscotti più disgustosi al mondo. Volevano avvelenarmi. Non ci posso credere. Mi riprendo i regali. Nessuno che prepara biscotti come questi merita regali. Il rumore proveniva dalla cucina. Per fortuna ho una mazza da baseball con me. Fantastico. Ci sono i nostri regali. Deve essere la mia pistola per le scoregge. E la mia macchina volante. Ali qualcosa non va qui. Che succede? Sì, hai ragione. Babbo Natale è in casa da troppo tempo. Se continua così, sarà un disastro. Scarterò subito il regalo. Eccola, la mia pistola per le scoregge. Come può essere? Hai visto Babbo Natale, papà? Uh, non sono sicuro. Oh mio Dio. Eccolo. Dove starà Martin così a lungo? Qualcuno è davvero entrato in casa nostra? Cosa sta facendo Babbo Natale lì dentro per così tanto tempo? Sono sicuro che sta mangiando di nuovo biscotti. Non abbiamo tempo per i suoi attacchi di fame. Deve essere il ladro. Non con me, ladro. Hai idiota. Cosa hai fatto? Il mio piede. Sei davvero Babbo Natale. Certo. Chi altro dovrei essere? Non ne ho idea. Forse un ladro? Non posso consegnare i regali adesso. Hai rovinato il Natale. Che aspetto ha? Nessun cambiamento. Babbo Natale è ancora lì? Cosa sta facendo in casa da così tanto tempo? Non ne ho idea. Chiamerò Rudolf. Sì, salve, sono Rudolf. Rudolf siamo noi. Non ne ho idea. Probabilmente è ancora in casa. Perché ci vuole così tanto? Se non è qui entro cinque minuti, entro. Puoi alzarti? Ti sembra che potrei alzarmi? Non proprio. Allora perché mi stai facendo questa domanda? Era solo una domanda, rilassati. È il peggior Natale di sempre. Dovremmo chiamare un medico per te? No, fammi uscire da qui. Ok, è fatta. Cos'è successo a Babbo Natale? Ha bevuto troppo latte? No, è ferito. Com'è successo? L'idiota mi ha rotto la caviglia. Oh no, il Natale è rovinato adesso. Papà ha davvero picchiato Babbo Natale per sbaglio? Sì, credo di sì. Hai almeno preso la tua macchina volante? Non ho ancora controllato. Sì, Rudolf? Abbiamo un problema. Babbo Natale è ferito. Come è potuto succedere? Un idiota lo ha colpito con una mazza da baseball. Cosa c'è adesso? Ehi, non sono un idiota. È stato un incidente. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo interrompere la missione. Tornate subito. Chi dovrebbe pilotare la slitta? C'è qualcun altro con te? Sì, l'idiota è qui. Non sono un idiota. Cosa è successo qui? Se te lo diciamo, non ci crederai. Dov'è papà? È fuori con Babbo Natale. Quindi ascoltate. Stai pilotando la slitta adesso. Ma non ho mai pilotato niente del genere prima d'ora. Non importa. Non hai bisogno di una patente di guida o qualcosa del genere? No, andiamo adesso. Benvenuto al Polo Nord. Ok, e adesso cosa? Vai dagli Elfi e racconta loro cos'è successo. Ok, ho capito. E Samuel, com'è la macchina volante? Fantastico. Vuoi fare un giro? Forse più tardi. E com'è la tua pistola da scoreggia? È fantastico. Guardami. Wow, che figata. Salve. Sei tu l'elfo? Sì, sei tu l'idiota? Non sono un idiota. Ma hai picchiato Babbo Natale, vero? Te l'ho già detto. C'è stato un malinteso. Pensavo fosse un ladro. Un ladro? A Natale? Ehi, può succedere a chiunque. Vieni con me, abbiamo molto da fare. Com'è la tua caviglia? Pessimo, ovviamente. Cosa ne pensi? Ti ho detto di fare una dieta. Cosa c'entra questo con la mia dieta? Hai mangiato formaggio in quella casa, vero? No, non l'ho fatto. Sì, l'hai fatto. Ehi ragazzi, sono Martin. L'idiota. Ciao Martin. Ciao Martin. Non sono un idiota. Sono Manuel e Thorsten. Ti aiuteranno. Aiuto? Con cosa? Consegnando i regali. Devo consegnare i regali adesso? Sì, certo. Chi altro? Dove sono i miei regali? Sono già le due del mattino. Normalmente sono già sotto l'albero. Babbo Natale è lento quest'anno. Sai dov'è papà? Non lo so. Non è ancora con Babbo Natale? Come dovrebbe funzionare? Non ho idea di come si faccia a essere Babbo Natale. Nessun problema, te lo insegneremo noi. Ok, da dove iniziamo? Per prima cosa, hai bisogno dell'abbigliamento giusto. Dove posso trovarlo? Vieni con me e basta. Su, fammelo vedere. No, non voglio. Non abbiamo tempo per questo, Martin. La gente si sveglierà presto. Ci restano solo due ore. Tutti i regali devono essere consegnati entro tale data. Mi vergogno per il vestito. D'ora in poi sarai Babbo Natale. Non dovresti più vergognarti. E che aspetto ho? Beh, mettiamola così. Ho già visto Babbi Natale più brutti. Samuel, c'è qualcosa che non va. Perché? Cos'è successo? Il mio cellulare mostra che papà è al Polo Nord. La casa di Babbo Natale non è lì? Sì, credo di sì. Cosa sta facendo lì? Non ne ho idea. Ma scopriamolo. Su, salite. Wow, ci sono così tanti regali qui. Esatto. E devono ancora essere consegnati tutti. Come dovrebbe funzionare? Sono migliaia. Devi solo essere veloce. Dai, prova a portare una pila. Lo sto facendo correttamente? Sì, cerca di mantenere l'equilibrio. Queste cose sono davvero pesanti. Sarà il peggior Natale di sempre. È buffo, i regali non sono ancora arrivati. Sono già le 4 del mattino. In realtà, è già tempo. Va bene, allora torno a dormire. Che cos'è quello? Ecco un centinaio di biscotti. E cosa devo fare con esso? Beh, cosa ne pensi? Voglio che li mangi. E adesso, tutti? Sì, tutti. Ma non posso farlo. Sono troppi. Allora non ti resta che allenarti. Dai, inizia a mangiare. Quanto manca al polo nord, Samuel? Saremo lì in 20 minuti. Wow, la macchina è davvero fantastica. Grazie, l'ho desiderato anch'io. Può volare anche più velocemente? Sì, c'è un turbo. Come sta il nuovo babbo Natale? Non pensavo potesse essere peggio di quello vecchio. Ma lo è. Dov'è adesso? Sta mangiando tutti i biscotti. Il tempo è scaduto. Vedrò come sta. Cosa sta succedendo qui? Ho mangiato tutti i biscotti. Davvero tutti? Sì, non dovrei? No, non intendevo seriamente. Devi comunque mangiare centinaia di biscotti oggi. Ok, siamo arrivati. Vedi papà qui da qualche parte? No, ma c'è una casetta laggiù. Andiamo laggiù. Forse è lì. Ok, andiamo. Congratulazioni. La tua formazione è completa. Adesso sei babbo Natale, davvero? Come ho fatto a iscrivermi? Sei stato estremamente cattivo. Ma il tempo è scaduto. Dobbiamo iniziare. Ok, iniziamo. Qual è il piano, miei elfi? Abbiamo ancora 12.000 regali da consegnare. E abbiamo esattamente un'ora per farlo. È praticamente impossibile. Niente è impossibile finché ci credi. Ok, qualunque cosa tu dica. Dov'è Rudolf? Rudolf è fuori. È tutto pronto. Puoi iniziare subito. Ok, finiamo questa cosa. Che aspetto ha, Rudolf? Sei pronto? Sì, iniziamo finalmente. Ehi, chi è quello? Lisa, Samuel, cosa state facendo qui? Sei babbo Natale adesso? Volevamo sapere cosa stavi facendo. Sì, devo consegnare gli ultimi regali. Vuoi aiutarmi in questo? Sì, certo. Ok, allora prendi qualche regalo e parti. Siamo bambini lassù a Monaco. Ok, papà. Se ci affrettiamo, saremo a casa giusto in tempo per la colazione. Allora faremo un passo avanti. Forza Rudolf, dammi delle gomme da macchina. Ecco i regali per la famiglia di Sara. Perché Polnico fa vuole un'auto sportiva? Ne ha già tre. Comunque, devo andare. Cosa vuole? A quanto pare vuole un pallone da calcio nuovo. Ma ne ha già uno. Fai solo quello che c'è sulla lista, Samuel. Ok, ma porto con me il vecchio pallone da calcio. Cosa ne pensi? E come sta? Incredibilmente buono. Davvero? Sì, sta accumulando casa dopo casa. Se continua così, finirà in tempo. Non me l'aspettavo. Allora chi vive qui? Oh, questa è la casa del signor Kunze. Era ovvio che voleva un sacco di carta. Ne ha sicuramente bisogno per i test del nuovo anno. Aspetta un attimo. Conosco questa casa. Marcus vive qui. Cosa vuole? Vuole un nuovo cellulare. Accidenti, avrei dovuto desiderarlo anche io. Hai una macchina volante, Samuel. Non lamentarti. Sì, hai ragione. Ok, andiamo. Quindi questa è l'ultima casa per oggi. Quando ho finito qui, ce l'ho fatta. Essere babbo Natale è davvero divertente. Potrei farlo ogni anno. Sei pronto? Sì, credo di sì. A meno che non abbiamo dimenticato qualcuno. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo salvato il Natale. D'ora in poi, siete elfi natalizi. E voi ragazzi, cosa vuoi per Natale? Dai un pollice in alto per la parte successiva e clicca su questo video.